Ben trovati ai telespettatori di Cilento Channel e benvenuti ad un nuovo appuntamento settimanale dedicato alla rubrica nutrizione e benessere curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che per questa settimana ci parlerà di un frutto esotico, l'avocado. Allora dottore, un frutto dalle innumerevoli proprietà a quanto pare? Sì, è un frutto esotico che però lo ritroviamo sempre più spesso anche sui banchi dei supermercati in Italia. Proprio perché sta riscuotendo anche un grande successo. È un frutto caratterizzato da una buccia di un colore verde scuro, a volte anche violacea a seconda della varietà e con una polpa all'interno gialla e al centro un nocciolo centrale legnoso. È un frutto abbastanza calorico, 100 grammi apportano all'incirca 230 calorie, contiene molti sali minerali, vitamine, ma ciò che lo caratterizza maggiormente è la maggiore concentrazione di grassi rispetto agli altri macronutrienti. Quindi è una cosa un po' anomala rispetto agli altri frutti, che però lo rende sfruttabile per l'estrazione a secco anche dell'olio di avogato, che trova molti impieghi sia nel campo alimentare che anche cosmetico. La cosa che c'è da dire è che comunque questa grande concentrazione di grassi sono apportati in gran parte da acidi grassi monoinsaturi, quindi acidi grassi buoni che aiutano a tenere il colesterolo sotto controllo, aumentare l'HDL, ridurre i trigliceridi e quindi mantenere in salute un po' il sistema vascolare. Proprio per questa sua caratteristica viene spesso inserito all'interno di regimi dietetici particolari, come quelli al ridotto contenuto di carboidrati, come possono essere la dieta paleo o la dieta ketogenica. In generale per chi è a dieta, ma anche per chi non lo è, è un frutto che va inserito all'interno dell'alimentazione con una certa cautela, proprio perché è molto energetico e per questa anche grande concentrazione di grassi. Quindi quando viene inserito l'avogato bisogna ridurre altre fonti di grassi. Contiene potassio che aiuta a regolare la pressione arteriosa, combatte la ritenzione idrica. Contiene fibre che regolano il senso di sazietà e aiutano a contrastare la stitichezza, quindi a regolare il transito intestinale. Stimola la produzione di succhi gastrici, quindi facilita anche la digestione. Ed è molto ricco di luteina, che è una molecola fondamentale per la salute degli occhi e quindi della vista, e di tantissime molecole anche antiossidanti, quindi che ci aiutano a combattere i radicali liberi e a ritardare l'invecchiamento. Come lo possiamo conservare e poi se ci sono anche controindicazioni per chi ne fa un consumo eccessivo? Allora va conservato prettamente a temperatura ambiente, quindi perché teme un po' il freddo e quindi non va conservato in frigo. Una porzione media sono intorno ai 50 grammi, quindi soprattutto un ottimo spuntino. Le controindicazioni riguardano appunto chi è in sovrappeso o un'obesità, per il grande contenuto calorico, chi soffre di insufficienza renale e chi può essere allergico a questo frutto. Bene, grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori come sempre, che seguono affezionati l'appuntamento dedicato alla nutrizione e al benessere. Quindi ci rivedremo la prossima settimana, sempre qui su Cilento Channel.